Questa volta hanno addirittura utilizzato un drone per riprendere il tetto dall'alto e verificare così le sue condizioni. Ancora un blizza all'ex cinema impero di Montevarchi, disposto dalla procura di Arezzo, che ha fatto intervenire sul posto un tecnico ed una società specializzata per valutare lo stato generale dell'immobile, in particolar modo la sua copertura. È stato così eseguito un monitoraggio aereo mediante l'utilizzo di un drone. Le indagini, coordinate dal PM Angela Masiello, erano iniziate un anno fa con il sequestro preventivo dell'immobile disposto d'urgenza per la presenza di un pericolo per la salute pubblica derivante dal disfacimento della copertura in Eternit con il conseguente rischio di dispersione di fibre d'amianto e un pericolo per la sicurezza pubblica rappresentato invece dal rischio di ulteriori crolli del tetto, già parzialmente collassato, in quanto l'edificio si trova in pieno centro storico. A seguito del sequestro erano stati contestati i reati di abbandono di rifiuti pericolosi e omissione dei lavori in edificio in rovina. Le indagini sono poi proseguite ma sul loro contenuto c'è il più stretto riservo da parte degli inquirenti.